Intanto qui Patacchini viene messo giù e poi occhio perché il numero 5 scaglia un calcio proprio sulla testa di Patacchini che va Attenzione perché la situazione è più grave del previsto, Patacchini incontenibile nei confronti del numero 5 Occhio perché volano mani, attenzione l'arbitro deve tenere la situazione sotto controllo Cioè Patacchini scatenato che dice il cartellino rosso espulso Patacchini E occhio dall'altra parte perché c'è il numero 4 che prova ad attaccare cesso pubblico, non si sta più capendo nulla ragazzi